La protezione civile ha emanato un'allerta per la Cascornia con l'ordine di evacuazione chimiata di installare e utilizzata... Mi porterò via! Corri! Presto! Coraggio! Sei ferita? Sei ferita? La gente deve sapere che la scossa non è finita. Colpirà di nuovo. E sarà un mostro più grande. Oh mio Dio. La Terra, letteralmente, si spaccherà. Si sentirà. Fino a New York. Ti voglio farle, papà. Non so come ripetervelo. Dovete andarvene. Andate via adesso. Se non potete... Dio sia con voi. Pieniti forte! Dobbiamo superarla prima che si rompa! Bia 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 Bia! Toguiamo! Grazie a tutti